Un nuovo spazio per i più piccoli, un nuovo spazio di solidarietà e di spensieratezza. Al Giovanni Paolo XXIII di Bari è stato inaugurato l'Oasi in ospedale realizzato in collaborazione con il WWF Italia. Grazie anche alla collaborazione dell'Associazione Ospedali Pediatrici Italiani siamo riusciti a creare un comitato scientifico che ci supporta nella realizzazione di questi progetti e che riesce a portare la natura e il benessere psicofisico che deriva da questa relazione anche in un ambiente come questo. La nostra priorità naturalmente è il benessere di bambine e bambini anche con collegamento con le scuole e gli studi scolastici che l'attraversano e per tutti i pazienti che sono qui. Un gesto simbolico ma anche ricco di significati. L'importanza educativa di quest'Ose è assolutamente indiscutibile. Qui riescono a vedere in una misura ravvicinata tutte le piante della macchia mediterranea. Riescono anche a vedere gli insetti richiamati da queste piante. Però questa Ose ha anche un'importanza, una grande importanza non solo educativa ma anche sanitaria perché è all'interno di un ospedale, è all'interno di un luogo che normalmente è di sofferenza e triste per i bambini e rappresenta un momento, una possibilità di svago, un momento, una possibilità di uscire fuori dalla routine dell'ospedale. Per cui questo si inserisce pienamente nel percorso sanitario, nel percorso di riabilitazione, nel percorso di guarigione del bambino.